In questa video lezione vedremo quali comandi possiamo assegnare alle celle. La finestra dedicata alla gestione dei comandi è composta da due sezioni, comandi presenti e comandi. Nella sezione comandi presenti verranno visualizzati una lista dei comandi che abbiamo assegnato alla cella. Nella sezione comandi sono presenti tutti i comandi che possiamo associare alla cella, con le relative descrizioni in basso. Per assegnare i comandi alla relativa cella non dobbiamo fare nient'altro che selezionare il comando e premere il relativo pulsante posto al di sotto, ovvero il tasto Aggiungi. La sezione comandi è divisa in sei aree. Base, Banco, Cambia Banco, Testo, Calcolatrice e Multimedia. Ora andiamo ad iscrivere i comandi presenti nelle varie aree. Nell'area base di sono i seguenti comandi. Salta Struttura Questo comando permette di saltare alla struttura selezionata. Questo comando è comodo perché permette di passare da una struttura ad un'altra. Salta Griglia Permette di saltare alla griglia selezionata. Pure questo comando è comodo perché permette di passare da una griglia ad un'altra. Salta Home Salta Home Permette di saltare alla griglia principale della struttura, ovvero a quella griglia che si vede nell'anteprima della struttura nella struttura attiva. Salta Precedente Permette di saltare alla griglia precedente visualizzata. Salta Successivo Permette di saltare alla griglia successiva. Attendi con questo comando, diciamo al programma, di attendere un top di secondi prima di eseguire l'altro comando. Avvia Applicazione Permette di selezionare un'applicazione o un programma esterna da avviare alla pressione della cella. Leggi testo all'aggiunta di questo comando, ci verrà richiesto di inserire un testo e di selezionare il relativo sintetizzatore vocale da utilizzare. Riproduci suono Per questo comando, con questo comando attivo, verrà riprodotto un suono alla pressione della cella. All'aggiunta di questo comando, verrà mostrata una finestra di navigazione nei file di sistema, dove dobbiamo navigare fino a che non troviamo il file audio che vogliamo che sia riprodotto. Pausa lettura Per questo comando mette in pausa il testo in lettura Riprendi lettura Riprende la lettura di un testo attualmente in pausa Stop lettura Interrompe il testo in lettura Riposi interrompe, o riprende la selezione o la scansione in uso Volume più aumenta il volume di sistema Volume meno diminuisce il volume di sistema Volume muto imposta il volume di sistema su muto Aumenta volume voce Aumenta il volume della voce del sintetizzatore prima dell'avvio della lettura Diminuisce volume voce Diminuisce il volume della voce del sintetizzatore prima dell'avvio della lettura Ora passiamo alla seconda l'area, ovvero nell'area banco In quest'area sono presenti i seguenti comandi Il comando leggi legge il contenuto all'interno di un banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando leggi evidenzia parola legge e contemporaneamente evidenzia la parola letta all'interno di un banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando leggi evidenzia frase legge e contemporaneamente evidenzia la frase letta all'interno di un banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando scrivi scrive un testo scelto in fase di progettazione all'interno di un banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando cancella carattere, cancella un carattere dal banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando cancella parola, cancella una parola dal banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando cancella tutto, cancella tutto il contenuto presente nel banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando annulla cancella, ripristina il testo appena cancellato dal banco testo, banco simboli e banco calcoli Il comando scorri su scorre il cursore del testo verso l'alto nel banco testo o nel caricamento dei documenti, sposta la selezione verso l'alto Il comando scorri giù, scorre il cursore del testo verso l'alto nel banco testo o nel caricamento dei documenti, sposta la selezione verso l'alto Il comando salva report salva un file html di report dell'attuale contenuto del banco simboli Il comando visualizza documento apre o chiude una schermata per la gestione dei documenti Il comando nuovo documento crea un nuovo documento Il comando carica documento carica un documento salvato in precedenza Il comando salva documento salva un documento relativo al banco testo o al banco simboli Il comando cancella documento cancella un documento calcoli e converte il banco corretto Il comando rinomina documento rinomina un documento salvato in precedenza Ora passiamo all'area cambia banco Quest'area ha i seguenti comandi Il comando banco testo converte il banco corrente in un banco testo Il comando banco simboli converte il banco corrente in un banco simboli Il comando banco calcoli converte il banco corrente in un banco calcoli Il comando Banco Multimedia converte il banco corrente in un banco multimedia Ora passiamo all'area testo L'area testo è composta dai seguenti comandi Il comando Maiuscolo scrive in maiuscolo i caratteri all'interno del banco testo Il comando Minuscolo scrive in minuscolo i caratteri all'interno del banco testo Il comando Centrato centra il testo del banco testo Il comando Linea Destra allinea a destra il testo del banco testo Il comando Linea Sinistra allinea a sinistra il testo del banco testo Il comando Dimensione Testo modifica la dimensione del testo del banco testo Attraverso le modalità Aumenta, Diminuisce e Predefinito Il comando Corsivo scrive tutto il testo del banco in corsivo Il comando Grassetto scrive tutto il testo del banco in grassetto Il comando Sottolineato sottolinea tutto il testo del banco Il comando Barrato barra tutto il testo del banco Il comando A Capo va a capo in un banco testo Il comando Spazio scrive il carattere Spazio nel banco testo Ora andiamo a conoscere quali comandi sono presenti nell'area Calcolatrice Il comando Risoldi valuta l'espressione scritta nel banco Calcoli e ne scrive il risultato Il comando Somma inserisce il simbolo di Somma nel banco Calcoli Il comando Sottrazione inserisce il simbolo di Sottrazione nel banco Calcoli Il comando Moltiplicazione inserisce il simbolo di Moltiplicazione nel banco Calcoli Il comando Divisione inserisce il simbolo di Divisione nel banco Calcoli Siamo giunti alla spiegazione dell'ultima area, ovvero l'area Multimedia Nell'area Multimedia sono presenti i seguenti comandi Il comando Riproduci video Seleziona e riproduce un singolo file video nel banco multimediale Il comando Riproduci audio Seleziona e riproduce un singolo file audio nel banco multimediale Il comando Riproduci flash Seleziona e riproduce un singolo file flash nel banco multimediale Il comando Aggiungi video, aggiunge un file video nella coda di riproduzione del banco multimediale Il comando Aggiungi audio, aggiunge un file audio nella coda di riproduzione del banco multimediale Il comando Aggiungi flash, aggiunge un file flash nella coda di riproduzione del banco multimediale Il comando Play avvia la coda di riproduzione del banco multimediale Il comando Pausa mette in pausa il file audio barra video in riproduzione nel banco multimediale Il comando Stop interrompe la riproduzione nel banco multimediale Il comando Riproduci precedente riproduce il file precedente nella coda di riproduzione del banco multimediale Il comando Riproduci successivo riproduce il file successivo nella coda di riproduzione del banco multimediale Il comando Aumenta volume aumenta il volume di riproduzione dei contenuti del banco multimediale Il comando Diminuisce volume diminuisce il volume di riproduzione dei contenuti del banco multimediale Anche in questa sezione, se volessimo togliere tutti i comandi assegnati nella cella, basta andare nella barra superiore del programma e premere Reset Comandi Se sappiamo il nome del comando che vogliamo associare alla cella, possiamo utilizzare la barra Vi ricerca presente nella parte superiore di questa finestra Una volta fatto ciò dobbiamo premere l'icona raffigurante una ruota dentata e verranno mostrate quattro icone La prima serve per spostare il comando verso il basso, la seconda serve per far spostare il comando verso l'alto, la terza serve per cambiare le impostazioni del relativo comando e l'ultima serve per eliminare il comando Raccomandiamo di cancellare il comando solo se si è sicuri visto che questa azione è irreversibile Quando abbiamo finito di apportare le nostre modifiche premiamo il tasto Fatto Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti.